Mercoledì 9 settembre, San Sergio Papa e il 252esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 113 alla fine. Il sole sorge alle 6 e 42, tramonta alle 19 e 37, la luna si leva alle 3 e 01, tramonta alle 17 e 30. Le truppe di Lala Mustafa Pasha, comandante dell'esercito ottomano di invasione, penetrano nella città di Nicosia, capitale dell'isola di Cipro, malgrado la strenua difesa delle truppe veneziane. È una carneficina, 20.000 persone vengono massacrate, più di 2.000 abitanti vengono venduti sul posto come schiavi. Palio dei Mezzadri e Antico Giro della Marchesa, da venerdì 11 a domenica 13 a Paderno di Ponzano. Sabato Palio dei Bambini, domenica Sfilata Storica e Palio dei Mezzadri. Nei tre giorni anche mostre, giochi dell'epoca e antichi mestieri. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti a tratti nuvoloso. Precipitazioni, in pianura assenti. In montagna probabilità bassa, ci saranno piogge locali di breve durata nel corso della giornata. Temperature simili a ieri in pianura, sui monti in lieve aumento di notte e in lieve calo di giorno. Grazie a tutti i nostri spettatori.